Allora il panino di oggi prevede, ecco cosa prevede, tumazzeggio, tumazzeggio di casa, questo è formaggio di casa, formaggio zenet, zenet, guardate che spettacolo, mi sono andicchiato il salicello, il salà e poi mangiate. Allora torniamo allo panino, il pano di casa e la mamma di vasa, questo è sempre dello sette, formaggio di casa e la mamma di vasa, fumaroro e melanciana, una, due, una, due e tre, alle 123, il panino e non mangio ieri, al tempo che pare una bombonera pare, dalle che bello, una, due e tre, come come? Buon pranzo a tutte ragazze, buon bigliette!